Ma magari dottor Caldiroli può tirarci sul morale, provi dottore con il suo intervento, grazie. Non lo so se ci riesco perché essendo in Lombardia la situazione nostra è quanto fosca, ovviamente più fosca rispetto al Piemonte ed altre zone, proprio perché lì si è andati anche oltre alle controriforme di cui parla Cavicchi nel libro, riuscendo a essere anche l'aziendalizzazione, lo spostamento, lo sbilanciamento sul privato, ha avuto 25 anni di pratica dal primo governo Formigoni fino al governo Fontana e quindi ha avuto delle ripercussioni estremamente pesanti che adesso avranno anche delle conseguenze sul come verrà gestito i fondi del PNR. Volevo iniziare il mio intervento però dicendo che, almeno per quanto mi concerne, io ho letto il libro di Cavicchi, un po' come se fosse una specie di ciliegina per la torta, dopo altri due testi, che sono sempre del 2021. Il primo testo è questo qui, è la storia sociale, storia dello Stato sociale in Italia, di Chiara Giorgi, in cui c'è anche un bel capitolo dedicato alla nascita del Servizio Sanitario Nazionale, proprio evidenziando che non è nato dal niente o dalla perseveranza o dalla bontà di qualche politico, ma dalle lotte sociali, in un momento in cui le riforme sociali complessive erano all'ordine del giorno, e aveva appunto uno dei primi obiettivi, era quello anche di fare, tra virgolette, ordine rispetto al caos e alle discriminazioni, alle differenziazioni di trattamento dovute a un sistema che era basato su mutui, assicurazioni e quant'altro, cosa a cui veniamo oggi trascinati, in particolare in Lombardia, ma purtroppo su questo siamo i primi e poi facciamo i cattivi esempi anche per gli altri. L'altro libro appunto è questo, di Maria Elisa Sartor, che narra appunto nel dettaglio la storia della privatizzazione in Lombardia, andando proprio a ricostruire tutti i passaggi politici, storici, dal 1997 in particolare ad oggi, e quindi dà l'idea dettagliata di come la controriforma dal 92, in questo caso, andando anche oltre al decreto De Lorenzo e anche oltre il decreto Bini del 99, è stata applicata appunto in regione Lombardia fino alla situazione attuale. Un primo aspetto, un primo indicatore, visto che giustamente Cavicchi ci tiene a ridare, a sottolineare l'importanza dei termini, è che in regione Lombardia non c'è il servizio sanitario regionale, c'è il sistema, ha proprio cambiato nome, sistema sanitario regionale, che già questa è una indicazione molto chiara di in quale parte va. Un sistema che oggi cerca di cogliere l'occasione dei fondi del PNR per fare cosa? Per continuare nella stessa direzione. Se c'è una critica che giustamente pone Cavicchi quando parla delle case di comunità o case della salute e dice che non devono essere semplicemente i vecchi poliambulatori del NIMA, in regione Lombardia i soldi si stanno organizzando affinché il principale finanziamento dei soldi del PNR vadano alle strutture edilizie, cioè alle case nel senso letteralmente come mura, dove poi mescolando un po' i servizi attuali, verrebbero piazzati in maniera più o meno razionale ai servizi esistenti senza affrontarli con un nuovo modello, come giustamente Cavicchi ci ricorda come necessario. Anche qui un altro aspetto particolare della zona Lombardia è che, mentre nel libro Cavicchi parla del bluffer, cioè della sinistra che bleffa letteralmente sulle sue reali attività rispetto all'intenzione dichiarate, beh, in regione Lombardia una cosa molto importante che c'è stata è la narrazione che i governi che sono succeduti hanno dato delle loro scelte che sono andate appunto a sbilanciamento verso il privato. In regione Lombardia si parla di parità pubblico-privato, una parità che ovviamente non è reale. Si parla di libera scelta del cittadino che può scegliere tra privato, pubblico e uguale. Una libera scelta che poi, andando nel concreto, significa che quando il cittadino ha bisogno o vuole prenotare una visita è libero di scegliere tra aspettare un anno nel pubblico o andare dopo due settimane pagando dal privato. La libera scelta è Lombardia, alla fine, stringi, stringi, arriva questo. E quindi il privato è stato, come dice Sartor, potenziato, ampliato con diversi meccanismi, a partire dal depotenziamento voluto della sanità pubblica, sia in termini di struttura, di personale, di funzioni, lasciando al privato semplicemente di poter occupare quelle posizioni e quelle prestazioni che si sentiva di fare perché semplicemente erano quelle più profittevoli e non quelle più utili nell'ambito di una programmazione dell'intervento sanitario in Lombardia. Perché di programmazione in Lombardia non c'è. C'è da anni quello che si chiama la delibera delle regole, che è fatta dalla Giunta, quindi manco il Consiglio regionale, che è semplicemente un budget, la divisione del budget tra erogatori pubblici e privati. E che è un budget che semplicemente risulta dall'insieme delle richieste, degli accreditamenti, dell'autorizzazione, della contrattualizzazione pubblica e privata. Quindi è un qualcosa che viene fuori, tra virgolette, in maniera naturale, da quello che Sartori chiama quasi mercato con l'organizzazione della sanità in Lombardia. Ora, Cavicchi ci dice, attenzione, attenzione a non fare semplicemente l'apologia della riforma sanitaria. E ci mette sull'avviso di dire che le parole prevenzione, in particolare distretti, quelle che in qualche modo dovrebbero, nel secondo caso, rappresentare la medicina territoriale, tanto per attenzione che non vadano a significare semplicemente, da una parte, appunto, semplici poliambulatori inam, dall'altra un approccio igienista anni 800, come ci ricorda. E ci ricorda, appunto, che distretti, territorio, non può essere ridotto agli aspetti creati amministrativi, ma deve essere appunto legato alla comunità. E magari io tenderei a chiamarvi collettività, ancora, diciamo così, tra virgolette, meglio. Perché la parola di collettività? Perché se Torino è stata caratterizzata da Oddone, Milano è stata caratterizzata da Giulio Maccacaro, che è quello che ha proposto, in sostanza, che ha avuto la prima visione, nei primi anni 70, delle case della salute, come nuovo modello sanitario, non semplicemente con una scatola in cui ci sono un po' una sommatoria di servizi. E poi uno dei miei maestri è stato Luigi Mara, quindi è il gruppo di prevenzione e igiene ambientale della Montella di Castellanza, che ha fatto una proposta concreta di modello di sanità in particolare, dandola la parola prevenzione. Andando a dire che, come Oddone a Torino e in Piemonte, ha a dire che sono i lavoratori che nel organizzarsi per lottare contro la nocività in fabbrica, acquisiscono una conoscenza, da questa una scienza che va a criticare i modelli di produzione di tipo capitalista e con tutti gli annesse connessi dal punto di vista degli effetti sulla salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente, e non solo, nel momento in cui incominciamo a lottare per la propria salute in fabbrica, poi escono dalla fabbrica e diventano i riferimenti anche per le lotte di carattere ambientale e sociale, che da un punto di vista, diciamo così, strutturale, chiamiamolo così, a quell'epoca aveva un nome, erano gli SMAL, era un servizio di prevenzione, quelli che oggi sostanzialmente sono i dipartimenti di prevenzione, ma erano i servizi in cui i tecnici delle allora USL, o ancora prima che venissero formalmente realizzate le USL, erano permeati dal territorio, cioè si confrontavano con i lavoratori, aiutavano e assieme ai lavoratori mettevano in discussione appunto in ciclo per trovare quelle soluzioni di carattere positivo. E da qui nasceva anche proprio un concetto, è una ricerca della salute collettiva, quindi non solo la salute intesa come tutela o anche come processo di mantenimento o miglioramento di una condizione di benessere psicosociale dell'individuo, ma anche come, soprattutto come collettività, perché non solo nessuno si salva da solo, ma quei determinanti di cui si accennava prima sono principalmente dei caratteri sociali, ricordi, principali determinanti di salute che abbiamo sempre indicato, e che in qualche modo la riforma sanitaria del 78 richiama, sono quelli della tutela o comunque delle condizioni di lavoro, quindi sicuramente il genere sul lavoro, quelle delle condizioni di vita, di residenza, di stile di vita, alimentare e quant'altro, e i temi di carattere ambientale. Su questo ricordo, giustamente Cavicchi diceva che non si è ancora riusciti a tornare a far mettere assieme, diciamo così, i temi e quindi le strutture ministeriali e quant'altro, ambientali e di tipo sanitario, ricordo che purtroppo questo è anche un po' dovuto a una colpa degli italiani, che nel 92 hanno votato un referendum che spezzava le competenze all'interno della loro usule tra le parti ambientali e la parte, chiamiamola tra virgolette, sanitaria tradizionale. Quindi in questo caso dovremmo anche guardarci un po' allo specchio, almeno come italiani, ma ovviamente si spera che nel frattempo qualcuno, molti di quelli che magari hanno votato a loro si siano tra virgolette pentiti. Volevo chiudere dicendo appunto che il libro di Micavicchi, oltre a affondare il coltello nella piaga, in particolare dell'atteggiamento e della politica o non politica della sinistra del governo, ci porta in qualche modo fino a una soglia permette a chi lo legge, in particolare ovviamente chi lo legge sentendosi dentro quel processo, sentendosi come dire attore di quella riforma, della contoriforma, non lo chiamiamola come medicina democratica, o se preferite di attualizzazione dei contenuti, dei principi della riforma sanitaria del 78, lo porta fino a una soglia, gli dà una serie di input, di suggerimenti, e poi lo lascia, lo lascia perché a quel punto lì giustamente è una discussione che deve essere aperta, deve essere percorsa, deve essere completata, senza, diciamo così, facendo in modo appunto che un nuovo modello, un nuovo pensiero sulla salute e di conseguenza su quello che dovrebbe essere lo strumento che il governo italiano, il Stato italiano, ha per attualizzare, per rendere operativa il diritto costituzionale, alla salute appunto deve, deve in qualche modo poter seguire. quello appunto che noi abbiamo fatto ultimamente e che cerchiamo di fare anche in Regione Lombardia per quanto concerne le modifiche normative che a nostro avviso non faranno altro che dare continuità alle precedenti atteggiamento, precedenti politiche di bilanciamento sulla sanità ormai in Lombardia siamo arrivati al 54% del fatturato tra virgolette sanitarie del privato e non è del pubblico tanto per dare un dato indicativo ci sono ridotti della metà i letti ma non è che sono spariti i letti sono diventati altri tipi di prestazione più che altro sul privato e quindi c'è stata una ridistribuzione complessiva. Una delle cose anche qui che giustamente Cavicchi sottolinea è che il territorio è soprattutto lavoro e quindi è operatori il PNR non finanzia l'assunzione di operatori perché formalmente non ha quella la funzione ma però non è che il governo ci ha messo ci vuole mettere in maniera specifica qualcosa di aggiuntivo su quel argomento lì tenete conto che Moratti qualche giorno fa ha fatto una sparata di questo genere in zona Lombardia c'è un'estrema carenza di medici di medicina generale e lei è venuta fuori a dire ma in realtà non è una questione di quantità di numero di medici di medicina generale è che siccome non hanno un orario come i medici ospedalieri cioè lavorano non lavorano abbastanza lavorano troppo poco allora questo determina una carenza nel livello dei servizi ovviamente immaginate il tipo di reazione giusta che hanno avuto tutti i sindacati dei medici a questa ennesima sparata della nostra Cordelia de Mont come chiamo l'assessore Moratti che purtroppo si avvia probabilmente a sottolineare lontana tra un netto finisco appunto dicendo che come mi diceva la democratica ma ci sembra essenzialmente anche di ritrovarlo ritrovare questi obiettivi nel libro di Calicchi nel momento in cui appunto sferza la sinistra per quanto concerne la sua non politica sulla salute e quindi anche sulla sanità è quella di cercare di riprendere in mano i fili della legge 433 io con leggete l'articolo 2 che è il 2 o 3 comunque uno dei primi in cui ci sono proprio gli obiettivi dichiarati della riforma sanitaria che sono attualissimi sono quello è quello il modello principe da sicuramente attualizzare ma che comunque è totalmente moderno e sociale e riformatore tanto per rimanere a qualche termine in questo periodo abbiamo fatto tutta una serie di iniziative tra cui abbiamo scritto il manifesto per il diritto alla salute abbiamo partecipato alla società della cura e quindi tutte e vediamo che un po' di movimento si sta riattivando un po' grazie alla paura chiamiamola così tra virgolette alla lezione che il covid ha dato mostrando la debolezza in particolare della sanità pubblica e su quali punti è più debole e però siamo riusciti stiamo riuscendo un po' per volta a cercare di ricostruire qualcosa di simile ai movimenti che negli anni 70 hanno poi determinato la produzione chiamiamola così della riforma sanitaria quello che adesso appunto vogliamo fare è sicuramente il libro di Tavicchi è molto interessante molto pieno diciamo così di stimoli è appunto quello dell'attualizzazione dell'atto 83 e di una ripresa di una riforma a questo punto delle controriforme precedenti e su questo ci stiamo avviando con molti altri soggetti che magari prima erano meno attenti o erano più specializzati su alcuni aspetti particolari e siamo riusciti come è un po' anche la nostra storia a riportarli a cercare di discutere su una visione più complessiva sul nuovo modello anziché pensare solo ai propri aspetti più direttamente vissuti grazie grazie a tutti grazie a tutti